Giovedì 26, buongiorno, ben ritrovati a tutti, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali 7.31 minuti sul canale 17, cominciamo subito con il tempo, anzi no, cominciamo con il santo Oggi è San Romano, il sole è sorto alle 6.50, tramonterà alle 17.52, guardate la fotografia della città di Fano che si sveglia a 7.30 del mattino con ancora tanti nuvoloni Non è freddissimo, sono 9 gradi questa mattina alle 7.30, insomma più o meno giornata come quella di ieri Cielo al mattino nuvoloso, ho coperto su tutta la regione Marche nel corso del pomeriggio Nel corso del pomeriggio che cosa succede? Ci sarà l'attenuazione della copertura nuvolosa sui settori centro-settentrionali Dove ci saranno ancora nuvole in medio-basse, sui settori centro-settentrionali ancora precipitazioni deboli sparse In particolare durante la prima parte della giornata, mentre sui settori meridionali saranno ancora diffuse queste precipitazioni I fenomeni potranno localmente assumere carattere di rovescio, il limite delle nevicate è attorno agli 800-900 metri Temperature senza variazione di rilievo, per domani cielo parzialmente nuvoloso senza precipitazioni Per sabato lo stesso, poco parzialmente nuvoloso con precipitazioni assenti Le minime saranno stazionari, un lieve diminuzione, le massime invece saranno in lieve aumento Per quanto riguarda il fine settimana, anzi fino alla prima parte della prossima settimana Il tempo sarà caratterizzato da condizioni di stabilità Allora, il carnevale di Fano in apertura, ieri c'è stata la conferenza stampa per chiudere E fare un bilancio definitivo di quella che è stata l'edizione del 2015 Luciano Cecchini dice che il carnevale è una cosa seria Fano deve crederci molto di più e vorrebbe un cartello con scritto Fano città del carnevale per chi arriva da nord o da sud Quindi sulla strada, sulle strade principali Che faccia eco al brand lanciato alcuni anni fa dalla precedente amministrazione Non capisco, dice Cecchini, perché a Fano non si possa erigere un monumento Il carnevale nelle rotatorie, per esempio Così come sono state decorate Pesaro, Gabice, Cattolica e Senigallia Mi sembra una grandissima puntini puntini Poi un'edizione da record Però mancano i soldi, mancano i fondi da parte della Regione e del Comune Il bilancio del carnevale parla di 375 mila euro di uscite totali e documentate La cui copertura al momento è in rosso Mancano i soldi promessi dalla Regione Che ha dato 20 mila euro su 50 dovuti Dal Comune 50 mila euro versati su 130 mila euro Il dibattito sulla burca Il burca nasconde l'araba e scopre le donne fanesi Il caso divide le signore della politica italiana Sotto due pareri, pro e contro Pro Marina Barnesi, assessore Vestirsi così, dice, non mette in crisi la civile convivenza Molte italiane, dice ancora la Barnesi, vestono con abiti di stilisti Ma hanno poi una profonda dipendenza dai loro partner Mentre contro è Paola Fazzi dell'Università dei Saperi Annulla il corpo, il burca, il corpo femminile E lo fa sparire L'ho indossato durante un viaggio Ha detto, ci si sente annullati È l'espressione di sottomissione Ancora la dodicenne La dodicenne del Salesi migliora piano piano Vorrebbe tornare a tifare inter-EWL Parla il padre della ragazzina di Calcinelli Per la quale si temeva la meningite Invece si tratta di streptococco È il batterio che le ha attaccato gli organi interni Processo di guarigione Sarà lungo Danno fuoco all'auto del guardia caccia So di non essere amatissimo da tanti A Cagli parla Rino Clementi Poteva esplodere e distruggermi anche la casa È stato evitato il peggio Per il calore il veicolo si è mosso autonomamente E si è allontanato da sé Ancora i ladri tornano al troni di Rio Salso E la nonna Mina stavolta spara tre colpi Sente i rumori all'alba E mette in fuga una banda di malviventi Hanno tentato di entrare da dietro come le altre volte Poi hanno sfondato davanti E nonna Mina eccola qua Questa signora che appunto ha sparato 72 anni Qui con le figlie Angela e Claudia Telefonata Ard Finto medico nei guai Con la scusa di una diagnosi Spinge una ragazza a compiere E a raccontare atti sessuali A circa 50 anni E una certa predilezione A violare la privacy altrui Tempo fa è scogitato un sistema Grazie al quale ha sì soddisfatto La sua libidine Ma a causa del quale è finito sotto processo Per molestie sessuali Sotto fuga dall'ex Laura Magnini assolta La sorella di Filippo Magnini Era accusata di sottrazione di minore Una storia siciliana Scaggionati anche i genitori Che l'aiutarono ad andarsene via Da Palermo Cambiamo giornale Andiamo sul Corriere Adriatico È morto Daniele Giannotti Lutto in comune a Pesaro Storico dipendente dell'amministrazione È stato stroncato da un infarto A 61 anni Sotto garantiamo livelli ottimali di prestazioni Ferie del personale E atto aziendale La direzione Marche Nord Ammette i tagli Ma respinge l'allarme Nei prossimi giorni sarà inviato Il piano assunzioni Alla regione Marche Bilancio consuntivo L'avanzo sforerà i 20 milioni di euro A Pesaro delle noci L'assessore presenta i conti preventivi Per il 2015 Non ci sarà nessun aumento Calano le sanzioni amministrative Che rispetto al 2013 Si riducono del 25-30% Ancora dal quotidiano di Ancona Razzia al trono di Tavuglia È il terzo colpo in pochi mesi Rubati cellulari e accessori Per 30 mila euro Il prefetto Luigi Pizzi Che si è insediato da poco Sta continuando il suo tour Per prendere coscienza e conoscenza Di quello che c'è nella nostra provincia E ha fatto visita al corpo forestale dello Stato Andiamo sulla pagina di Fano Del Corriere A centro pagina Il Carnevale Grandi numeri e buone idee per il futuro Organizzatori e sindaco soddisfatti Superate le aspettative Marchegiani L'assessore si impegna Per le innovazioni Seri ringrazia Per l'impegno Per l'impegno Del Corriere Il Dragaggio partirà tra un mese Concertazione in regione Il Comune ha presentato la pianificazione dell'intervento Al tavolo imprenditori e lavoratori Per un progetto organico Visibilità su media nazionali Questo per quanto riguarda sempre il Carnevale Appendice autonale Anche all'Expo di Milano Poi anche a Fano 5 Stelle In calza l'amministrazione I grillini rivolgono una serie di domande Sul futuro dei lavoratori Il ruolo della società nella fusione Stiamo parlando della Rincicotti e Orciani Disservizio e contraddizioni Santorelli interroga sul silenzio di Comune E Aset sul rischio di liquidazione ambientale Viale Cairoli Ecco perché è ambientale Viale Cairoli Allagato ad ogni temporale Nessuno pulisce il tombino fognario Disagi per il ristagno dell'acqua Tra l'area di sosta e la via pedonale Vedete la fotografia Trascurata da molto tempo la manutenzione Penalizzati in questo modo Gli esercizi commerciali del quartiere È arrivata la Monte Feltro Salute Da Pergola, Baldelli Vuole chiarezza E organizza un'assemblea pubblica Sulle strutture dell'entroterra Più sotto da San Lorenzo in campo Pergola e San Lorenzo Due comuni amici E poi da Serrungarina Furti nelle case Tutti parte attiva per la sicurezza L'unione dei municipi della Valle del Metauro Prepara un incontro con la cittadinanza E ancora da Senigallia Misa il fiume minaccioso Torna la paura Si riunisce il COC Il centro operativo comunale Due ore con il fiato sospeso Poi il livello dell'acqua cala sensibilmente Il sindaco Mangialardi L'allerta ha riguardato solamente le zone R4 Di Bettolelle, Vallone e Molino Marazzana Poi sempre un tema scottante Sulle pagine del Corriere di Senigallia Maxi multa ai clienti delle prostitute Sorpresi delle luce Le sorpresi nei parcheggi della Statale Aumentano i controlli della Polizia Municipale Anche nelle ore della sera A marzo le sanzioni saliranno ulteriormente Come abbiamo detto l'altro giorno Oggi se venite pezzicati sono 400 euro Domani 500 Da Pesaro Il messaggero La pagina principale Con in apertura il comune di Pesaro Che scova mille evasori L'assessore al bilancio delle noci Tra Imu e Ici L'anno scorso oltre un milione e mezzo Di euro Da recuperare Segnalate 52 posizioni All'Agenzia delle Entrate E altre 12 alla Guardia di Finanza Sempre dal messaggero Vedete la ferma immagine Di una telecamera A circuito interno Quella del Troni Terza razzia in 4 mesi Colpo a Rio Salso È la terza volta in 4 mesi La titolare Angela Cecchini È esasperata Non ne posso più Ha detto La prossima volta Mi costringono a prendere il fucile Questo è quello che ha dichiarato La titolare Andiamo più in qua Sempre sulla pagina principale Del messaggero Flaminia Strada piena di buche E così ci isoliamo Il presidente della Camera di Commercio Drudi Brutta figura Con le delegazioni Dell'Expo Ancora 48 ore di maltempo Sono le previsioni di Fazzini Del messaggero Andiamo nelle pagine Nelle pagine interne Torna Ercole Ma il museo chiude L'America restituisce L'America restituisce la statuetta etrusca In bronzo Rubata 50 anni fa Raffigurante l'eroe mitologico L'orli veriana Che ha preso la notizia Con grande entusiasmo Dovrà però Serrare i portoni Fanno in fina gennaio Fanese Trattative con il curatore fallimentare Per rescindere il contratto con CAM E sbloccare le procedure per la mobilità Centropagina diventa un caso politico La Rincicotti Orciani Santorelli Subito la commissione di garanzia E di controllo Anche 5 Stelle Chiedono chiarezza E si discute Sul piano di salvataggio Proposto dalla CISL Che coinvolge I comuni del Fanese Anziano finisce con l'auto Nel cantiere della Ciclabile Paura per un pensionato fanese Che a causa di un malore Che lo ha colpito Mentre era al volante Piombato con l'auto Nel cantiere della pista ciclabile Accaduto martedì sera Nella zona di Fenile Coinvolto un 74enne Il Burka continua a far litigare Destra e sinistra E poi Sempre dalle pagine di Fano del Messaggero Dalla protezione civile La barriera salva chiazze I volontari del Mattei La mettono a disposizione Della Guardia Costiera La vedete qui Penso che stasera È già in programma in scaletta Sul nostro telegiornale Un servizio In maniera più approfondita Con le immagini Intendo dire Non che l'articolo Non sia anzi tutt'altro Più approfondita Nel senso che vi faremo vedere Anche le immagini E le altre fotografie In questo senso Grazie per averci seguito Buona giornata E arrivederci a domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti